Iniziano oggi 5 gennaio e tanto attesi i saldi invernali, tantissime le persone che hanno deciso di riversarsi qui per le vie del centro per poter acquistare dei capi desiderati che non si è potuto comprare nel periodo natalizio. E intanto anche il giorno dell'Epifania e domenica i negozi resteranno aperti. Lì approfitta di queste giornate, di queste offerte? Beh certo, ne approfittiamo, vista la famiglia vediamo un attimino come gestire il budget e approfittiamo dei saldi. Gli acquisti sono quindi concettati più per il bambino e anche per noi. Se ci rimane qualche centesimo ecco. Pensate anche a fare qualche regalo? Basta, abbiamo finito, terminiamo con i regali, ora pensiamo a noi. Avete già acquistato qualcosa? Sì. Qualcosina. Posso chiederle su cosa si è orientata? Una felpa e una tazza perché lei è collezionista di tazze. Nei prossimi giorni ritornerete in centro o vi siete già concentrati oggi per gli acquisti? No, solo oggi. Ma pochi acquisti comunque sia perché c'è una crisi economica non indifferente. A voglia. Ha comprato delle scarpe, ha avuto il 30% quindi... Pensa che siano comunque convenienti i saldi, si trova delle offerte? Al momento sì perché le avevamo già viste le scarpe. Sì, abbiamo aspettato apposta. Prevedete un budget di spesa? Ha messo la parte regale di Natale quindi 300 euro. Io non lo so, prima lui, prima i figli. Abbiamo preso un po' di scarpe solo perché erano al 50% in realtà, sì, è un periodo un po' difficile. Quindi i saldi comunque sono ottimi per poter acquistare dei capi o comunque degli oggetti desiderati? Aiutano molto, il prezzo pieno è alto, molto alto. Se c'è evidentemente i soldi ci sono, non so chi li abbia però, buon per loro, buon per chi ha i soldi. Noi dobbiamo lavorare per comprare anche il minimo, però un regalino ce lo siamo fatti.